Buongiorno e benvenuti a Over the Target. Oggi abbiamo ancora con noi un ospite speciale, il grande Derek Harvey. Il colonnello in congedo Derek Harvey oggi riprende una conversazione molto, molto importante. Avrete sicuramente letto di come le nostre forze armate, le più grandi forze armate della storia del mondo, stiano avendo problemi ad arruolare nuove leve. Il colonnello Harvey parlerà di questo e spiegherà cosa sta succedendo. Passeremo anche in rassegna altre cose, come quelle che avete sentito sugli informatori dell'FBI. Derek è stato anche un investigatore al Campidoglio, ha molta esperienza sull'FBI e del Ministero della Giustizia e spero che riusciremo anche a parlare un po' di ciò che sta accadendo con l'indagine di John Durham sulla cospirazione Clinton-Obama-RussiaGate. Derek, grazie mille per esserti unito a noi anche oggi. Abbiamo visto molte delle tue recenti apparizioni sui media. So che ora appari sempre su Teamcast e stai diffondendo ogni tipo di informazione necessaria. Oggi vorremmo che tu condividessi le tue conoscenze con il nostro grande pubblico. Innanzitutto, parliamo di quello che sta succedendo al reclutamento nelle nostre forze armate. Tu sei un veterano con 26 anni di missioni operative alle spalle. Hai prestato servizio in infanteria nei paracadutisti e nei ranger. Quindi hai una profonda conoscenza della questione. Dicono che il problema è che le donne non vogliono arruolarsi nell'esercito perché non possono abortire negli Stati Repubblicani. Ma non so se sia vero. No, non è vero per niente. Ma non fa niente. È un depistaggio. Allora, il crollo del reclutamento è avvenuto nel 2020 e nel 2021 è accelerato. Il Covid ha avuto un impatto con l'obbligo di vaccinazione per i militari. Nel 2020 ci sono stati molti problemi che hanno avuto un impatto sulle potenziali reclute, cioè i giovani tra i 18 e i 24 anni e i 17 anni non appena compiono 18 anni. Ma i tempi non coincidono. L'esercito ha raggiunto solo il 40% del suo obiettivo l'anno scorso. Il 40%? Caspita! Sì, il 40%. E le altre forze armate non hanno fatto molto meglio. E qui i conti tornano. Ma qui non c'entra la decisione della Corte Suprema. La causa sono le politiche sbagliate. È legato alla pessima leadership. Militari, leader politici, civili del governo, il Ministero della Difesa e il Capo di Stato Maggiore della Difesa che dicono che ora il problema principale è l'estremismo nei ranghi. E quando parliamo di estremismo nei ranghi, in realtà puntano il dito contro gli americani patriottici che credono nei valori tradizionali, che credono nella religione. Qualunque sia. Ebrea, cristiana o musulmana non fa differenza. Perché queste tre fedi sono ostili ad alcune delle politiche woke che quella gente sostiene. C'è l'agenda sociale. C'è il generale Millie che parla di rabbia bianca e si preoccupa tanto della rabbia bianca. E poi c'è un nuovo Ministro della Difesa che chiude ogni attività delle unità, l'addestramento e le operazioni. Tutto per imporre un addestramento obbligatorio sulla minaccia dell'estremismo bianco. Tutto questo dopo un anno di violenze di Black Lives Matter e Antifa. E la minaccia per il paese sarebbe l'estremismo bianco e le milizie nei ranghi? È semplicemente ridicolo. E non esistono prove a riguardo. Abbiamo esaminato la questione in Parlamento. Non esistono prove che ci sia un problema nei ranghi. Giusto negli anni 70 potrebbe esserci stato un piccolo problema. Noi parliamo di reclutamento, ma qui tu descrivi un ambiente che sicuramente determina un morale piuttosto negativo nei ranghi. Tu sai cosa stia succedendo in concreto? Voglio dire, se le persone vengono prese di mira come terroristi interni o suprematisti bianchi, familiari inclusi, oppure vengono costrette a sottoporsi a trattamenti covid sperimentali e si rifiutano, o vengono costrette a lasciare il servizio? Com'è il morale? Ho parlato con molti altri ufficiali in servizio. Alcuni si sono congedati negli ultimi due anni. Non appena hanno raggiunto le finestre di pensionamento, se ne sono andati. E questo a causa di cose come l'obbligo di vaccinazione covid, ma anche a causa delle politiche woke. È un periodo piuttosto difficile. Io sono in contatto con molte persone, partecipo a chat e gruppi di posta elettronica con ufficiali in servizio, e c'è una brutta atmosfera. Ora, non ci si concentra sulla costruzione di una squadra, su un senso di unità di intenti e di impegno, ma si promuove l'identità individuale e si ostacola la coesione. Quando ci si concentra sulla propria identità individuale, sulle proprie opinioni politiche, che si tratti di lesbiche, gay o trans, si nega la biologia. La base che sostiene le forze armate statunitensi proviene per la maggior parte da comunità bianche, cristiane e meridionali. E questi stanno attaccando quella base. E potrebbe esserci un secondo fine. Vogliono trasformare le forze armate e far scappare gli ufficiali? Sì, ovviamente molti se lo chiedono, perché l'ambiente mediatico è pessimo e mancano molte informazioni. E la stampa dà voce solo alla fazione e al potere. Quindi non abbiamo una visione approfondita dei fatti. Esiste un progetto per neutralizzare le forze armate? Senz'altro non saranno davvero pronte a combattere se si fanno fuori tutte le unità operative. Colpevolizzare le persone che si arruolano per combattere per il loro paese? Cacciarle via? È possibile che sia proprio questo il loro obiettivo? Vogliono solo smantellare le forze armate? Sì. C'è la possibilità che il loro obiettivo sia quello di danneggiare le forze armate in generale e usarle per i loro scopi. Sai qual è ora la minaccia alla sicurezza nazionale? Una delle principali minacce, secondo il Ministero della Difesa, è il cambiamento climatico. Ma per favore, il clima è sempre cambiato. Potremmo analizzare questi problemi. Stiamo modificando lo sviluppo dei nostri veicoli da combattimento per renderli politicamente corretti. Avremo stazioni di ricarica in Somalia per caricare i nostri veicoli a batteria. Aspetta, dici sul serio? Stazioni di ricarica? La logistica dell'esercito americano è davvero impressionante. Ma come faranno ad avere stazioni di ricarica ovunque ci siano veicoli e carri armati? Se useranno veicoli a batteria di vario tipo per iniziare ad abbandonare il diesel, mentre dovranno ancora usare il diesel, nella maggior parte dei luoghi in cui interveniamo non potremo fare affidamento sui paesi ospitanti. Non ci sarà una rete elettrica a cui potersi agganciare. Quindi dovranno portare altri generatori e interrompere le operazioni per ricaricare i veicoli da combattimento per otto, dieci, dodici ore. È assurdo. Non ne avevo idea. Possiamo andare in missione solo in luoghi che abbiano stazioni di ricarica. Spiacenti. Non possiamo fare nulla in Medio Oriente, perché lì va tutto a petrolio. Le conseguenze indirette di quello che stanno facendo avranno un impatto sull'efficacia del combattimento. Ogni ora sottratta all'addestramento, non abbiamo mai avuto abbastanza tempo. Quando ero capitano, non avevamo mai abbastanza tempo, in un giorno, in una settimana, in un mese, per soddisfare i requisiti obbligatori che avevamo allora. Tantomeno i requisiti di un vero addestramento operativo, cose come mettere mano al mortaio se eri nel plotone mortai. O magari migliorare i sistemi dei veicoli da traino. E poi i tiri al poligono, le marce, l'addestramento delle piccole unità. Il tempo non basta mai. E in tutto questo, se sei una recluta donna, cosa ti preoccupa di più? Sapere se puoi abortire? O magari preoccupa il fatto che nel mio stesso spogliatoio o nella doccia ci sia un uomo di un metro e novanta che quando è nudo mostra i genitali maschili. Ora, il requisito è che tu sia a tuo agio con te stesso per essere in piena transizione. Non c'è alcun requisito che imponga di sottoporsi a interventi chirurgici, cioè di andare fino in fondo. Ti riferisci ai trans? Esatto. Stanno facendo una forzatura. È lo stesso problema degli spogliatoi. Ma ormai è obbligatorio. Ti fanno cambiare i pronomi per essere più inclusivo. E cosa sta succedendo nell'aeronautica? Quella cosa che ora in aeronautica non si può più dire mamma e papà e si deve fare attenzione ai pronomi? Cos'è successo? Io credo che la causa sia il direttore per l'equità e l'inclusione del Pentagono che sovrintende all'istruzione. Questa donna ha pubblicato dei post di odio verso i bianchi su Twitter e sui social media. Ora è in corso un'indagine a riguardo, ma è il suo ufficio che si occupa di diffondere questa ideologia. Per cui l'accademia militare ha imposto lo stesso tipo di cose e la teoria critica della razza. E il capo delle operazioni navali ha imposto di leggere il libro di Candy. Non so se mi spiego. Non si legge Klauschwitz. Non si legge Armored Warfare. E nemmeno si studia la Seconda Guerra Mondiale. Non c'è tempo per studiare quello che sta accadendo oggi in Russia e in Ucraina. Se siete un giovane ufficiale, cercate di capire come si stia evolvendo l'uso dei droni e della tecnologia, dei satelliti commerciali e dell'uso innovativo di tecnologie non disponibili. Oggi vi viene chiesto di ignorare queste cose. E poi ci sono persone che non si concentrano sulla propria individualità. Abbiamo integrato l'esercito. Abbiamo introdotto i neri. Abbiamo integrato musulmani e arabi. E io non ho mai visto un solo problema tra le persone nelle mie unità. E parlo di squadre, plotoni, compagnie, battaglioni, fino ai quartieri generali all'estero. Perché noi ci concentravamo su una missione comune. In una squadra di football non conta se sei nero, bianco o latino americano. Conta solo se sai fare bene il tuo lavoro e se posso contare su di te. Tutto questo origina dal Pentagono o dai politici? Dentro il Pentagono è entrata la politica. Presumibilmente recepiscono quello che Joe Biden o Kamala Harris o Barack Obama chiedono nell'ombra. Per loro le forze armate devono essere una vetrina per le loro scelte politiche. Non è solo una vetrina. Qui c'è un sistema di comando e controllo. È tutto molto più facile da imporre in una base militare. Possono dirti quali adesivi puoi attaccare sulla macchina, quali bandiere puoi tenere nel tuo cortile, quali cartelli puoi mettere in giardino, quando e come devi tagliare l'erba. È un ambiente molto controllato. Molti dei nostri generali sono figli di militari e hanno vissuto in questo tipo di basi e si sentono a proprio agio con l'idea che il grande fratello sappia ciò che è bene. Quindi, quando si istituisce un ufficiale per l'equità e l'inclusione nelle unità o nell'Accademia dell'Aeronautica, e gli si dà un nastro o una fascia da indossare, che differenza c'è con i commissari politici dell'Unione Sovietica. È proprio quello che ho pensato io mentre parlavi. Giusto. Qui parliamo di commissari politici che devono mantenere i soldati ideologicamente puri. ti dirò, secondo il mio giudizio e la mia esperienza, il 99,9% dei maschi bianchi che ha prestato servizio nell'esercito è entrato per motivi patriottici. Ci credevano, volevano fare qualcosa per il paese e volevano guadagnarsi lo status di veterani dopo il congedo. Molti dei soldati più giovani volevano combattere per l'America, volevano vivere un'avventura, volevano l'azione, volevano vedere un po' di mondo. Insomma, erano motivati da molte cose, ma si concentravano sulla missione. E lo stesso valeva per i neri, gli ispanici e gli asiatici che erano nelle mie unità e che io ho osservato. Non c'era l'attenzione alla propria individualità. E avevamo gli omosessuali, gay e lesbiche, ma il punto era la missione. Su chi si poteva contare? Era questo il fattore di differenziazione. Sei in grado di farlo? E queste sono proprio le persone che ora non si arruolano più nell'esercito. Ormai si sente di tutto. Tu stesso mi dici che parli con i ragazzi della tua zona, che è a maggioranza repubblicana. E mi hai detto che parlando con ragazzi molto giovani, intorno ai 17-18 anni, loro dicono, scordatelo, non ci andrò mai nell'esercito finché le cose sono così. Si tratta di ragazzi americani patriottici che di solito fanno carriera. E invece cosa fanno? Ho parlato con dei reclutatori qui, in Wisconsin e nel Missouri, in tutti e tre gli stati, anche se non sono dei grandi serbatoi di reclute come il South Carolina, l'Alabama, la Georgia e il Tennessee. Le aree di cui parlo e con cui mi sono confrontato, come il Maryland occidentale, 61% trampiano, conservatore, repubblicano, rurale. Qui ci sono fattorie, piccole città. È un ambiente ideale. Ci sono stato. È una zona bellissima. Ma qui il reclutamento è difficile. E quando parlo con i ragazzi, mi dicono, farò altro anche quando c'è un'alta richiesta di lavoro. Perché qui siamo a 3,5. E lo stesso era nel 2019 e nel 2018. Quindi c'è molta richiesta di lavoro, ma non vogliono entrare in questo ambiente. Non si sentono rispettati. Grazie.